Choco, perché dormi in orario d'ufficio? Era solo un sogno. Ciao Muffin, scommetto che non sei mai stata con un bagel che ha tutte queste proteine. Le mie valutazioni della NYV, massimo dei voti ogni semestre. Guarda il mio ufficio, piuttosto chic. Quando ero giovane... Ora basta! Allora, bagel, che ti credi di essere? Non mandarmi messaggi in orario di lavoro! E non chiamarmi più! Caccao! Ho sbagliato tutto, dammi un'altra possibilità, ti scongiuro! Cosa è già arrivato qui? Ho una sorpresa per te, Muffin. Due posti in prima fila per il fantasma dell'ufficio a Broadway. Ti piace il music? Non ci fanno mai con te! Cosa? Ma questi biglietti erano impossibili da trovare. So quanto ti piace a Broadway, ti prego! Ti prego, dammi un'ultima possibilità! Ehm! Ehm! Grazie a tutti.